Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Ecco com'è diventata la figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, vi diciamo solo che è un mix perfetto dei due Ha ereditato tutti i punti di forza dei genitori, è veramente una bella ragazzina. La figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi è praticamente un mix perfetto dei due È come se avesse ereditato tutta la bellezza dei suoi genitori, combinata in lei È veramente una bellissima ragazzina e i genitori l'adorano, da quello che si può vedere dai loro profili social Come saprete, la Marcuzzi e Facchinetti, sono stati insieme dal 2010 al 2012 e nonostante tra i due sia finita abbastanza velocemente, i due genitori hanno mantenuto un rapporto molto bello, per amore della figlia Nonostante le loro famiglie allargate, è facile vederli tutti insieme, senza rancori o litigi Come hanno ammesso entrambi, la loro storia d'amore è stata molto bella e anche se finita, mantengono un ottimo ricordo l'uno dell'altra La figlia di Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi.Prima di proseguire con il discorso della figlia della Marcuzzi e Facchinetti, siete al corrente che Alessia è di nuovo al centro della bufera per via della sua presunta relazione con Stefano De Martino? La conduttrice è stata di nuovo additata come la presunta colpevole della separazione, non ancora annunciata, quindi non sicura, tra Stefano e Belen Rodriguez Il fatto curioso è che la Marcuzzi, attualmente concentrata su un possibile ritorno di fiamma con il suo ex marito, Paolo Calabresi Marconi, avrebbe risposto così a tutta questa storia, mi ferisce Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale Non si capisce quindi se non ne sa niente o se sa qualcosa che è ancora meglio tenere e nascosto? Ecco chi è Mia Facchinetti.Mia Facchinetti è la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, la bambina, nata nel 2011 e il perfetto binomio dei due È veramente molto bella e ha i tratti di entrambi i suoi genitori Addirittura le movenze, ricordano tanto quelle della mamma. La cosa bella di questa famiglia separata sulla carta, ma unita nel cuore, è quella di essere sempre presente, nonostante tutto Per esempio, di recente, la Marcuzzi sta trascorrendo una vacanza a Londra insieme a Mia, Francesco e alla sua nuova famiglia Sono tutti affiatati e non ci sono gelosie o rancori, semplicemente sono persone intelligenti che si divertono per amore dei loro figli La stessa cosa vale anche per Alessia Marcuzzi e il suo ex Simone Inzaldi Per i figli hanno messo da parte l'egoismo e l'orgoglio e questo gli fa molto onore Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao